allora un saluto a tutti i giorni 20 and friends e benvenuti amici dress 2016 siamo ancora su questa meravigliosa livella triestina un po in velocità perché abbiamo una ragazza di san donaldi del piave addirittura quindi deve prendere il treno fra poco che ve l'ha preso subito alla mia sinistra allora tu ti chiami vieni da quindi anche lei scelta sul famoso calendario dress 2017 vediamo la regione in carica sala cantier che passerà la nuova corona o quella originale di bici dress alla nuova regina in carica e che sarà praticamente incoronata e vincita la fascia e la corona e anche la copertina del calendario il nuovo calendario dress 2017 in piazza oberdon a trieste quindi salutiamo gli amici del bar che ci aspettano per il terzo anno quindi un saluto a giancarlo simone ed elisabetta del bar che ci ospitano per il terzo anno per la gran finalissima di settembre a trieste la nuova bici dress 2016 dove la sala cantier preverà la nuova regina che se state con noi dopo la finale vediamo che sarà allora andiamo subito sulla mia destra che abbiamo oggi abbiamo un po di fretta e abbiamo una veterana di bici dress da quanti anni fa i bici dress? terzo anno quindi il terzo anno per tatiana possiamo dire il cognome perché è il cognome di giovanović io dito tu bene che sei giovanović quindi tatiana giovanović ma arriviamo su che andremo già su domenica il 7 infatti vedete in compagnia della anche l'altra modella anacosti che salutiamo del mese che forse anche lei quest'anno non so se riuscirà a venire e poi a essere scelta però molto probabilmente verrà a fine anche ad agosto anche lei e quindi tatiana protagonista del calendario del 2016 e questo mese non ve lo diciamo ancora lo scoprirete con noi e lo scoprirete più in avanti nel tempo bene alla mia destra ancora c'è un'altra ragazza nuova no una new entry di bici dress diciamo la una delle mascotte no e tu ti chiami marianna e vieni da gorizia quindi un'altra goriziana per il famoso calendario già sul 2017 la vedrete su un mese anche lei in compagnia o da sola poi decideremo o addirittura forse diciamo anteprima c'era anche un modello molto famoso qua nel nord-est e lui spettracci a farci compagnia sul famoso calendario già sul 2017 insieme agli altri modelli testimonia del famoso calendario benissimo allora salutiamo per i giorni vita in frente saluto tutti colonna perché mandracchio oggi non dico neanche noi perché siamo in fretta tutti i giorni venti in france colonna mandracchio a rispar centro benessere new emotion via colonna 29 barappi dove faremo il calendario di renderemo il famoso calendario già nel 2017 con i set ufficiali che cominceranno a ottobre quindi il set ufficiali del famoso calendario oggi nel 2017 al centro benessere new emotion salutoiamo stefano che ci ospiterà salutiamo le rispar salutiamo tutti salutiamo i numeri alla fine perché adesso fa un po' fresco ma poi numero lo stesso un po' quindi qualche numero lo diamo giusto il canale ufficiale di misure grazie a voi che giorni reti volete tanto 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 bene ma avete raggiunto i soli cinque anni oltre quasi un milione di video azioni che sta raggiungendo quindi una cosa è stato sperica per l'italia per a livello e non dico insomma planetare perché siamo a livelli delle quelle agenzie americane ma neanche insomma quasi a quei livelli la stiamo davanti quindi poi anche il canale di arthur spilberg che ha addirittura 3 milioni grazie al programma trend dance che va molto forte adesso salutiamo anche gli amici telebronelone e gp gp che ospiterà con il suo programma l'altra domenica che comincerà a settembre alle due mesi circa le ragazze del nostro famoso calendario oggi il 2017 il nostro fan e amico gb salutiamo ciao gp salutiamo quindi mi stress più forte mi stress no mi sento mi stress mi stress oh yeah al prossimo e quinto video il quinto e forse penultimo video del famoso canale adesso 2007 abbiamo la numero 7 8 e 9 giusto testimone a scelta ok un bacio ci arriviamo in france ciao